Ciao carissimi, eccoci ritrovati per il nostro ultimo appuntamento, è il mercoledì santo 13 aprile. È stato un cammino lungo dal mercoledì delle ceneri al mercoledì santo, grazie a chi è stato costante, fedele ogni giorno insieme a me, a tanti amici che attraverso il video si sono uniti alla nostra preghiera della sera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Nostro libretto leggiamo la prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. La carità non avrà mai fine, le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo, ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Adesso noi vediamo in modo confuso come in uno specchio, allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma la più grande di tutte è la carità. Di questo brano, molto bello, l'inno alla carità, noi stasera ci fermiamo su un aspetto. San Paolo ci dice che noi conosciamo ora in modo imperfetto, ma quando verrà ciò che è perfetto, ciò che è imperfetto scomparirà. Noi viviamo una condizione momentanea, non ce lo ricordiamo mai a sufficienza gli uni gli altri. È tutto precario, basta vedere come è molto complicata la nostra vita, capitano tante cose, pensate anche in questi ultimi giorni o settimane dove la guerra in Ucraina e poi la pandemia e poi tante situazioni anche personali che ciascuno conosce perché non le dice magari agli altri, ci portano a dire eh sì qui non c'è nulla di sicuro nella nostra vita, è tutto imperfetto, però quando arriverà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Attenzione non si fa riferimento solo a quando noi moriremo, andremo in paradiso e ci sarà la perfezione di tutto, ma anche a questa perfezione che ci raggiunge già in questa vita, cioè Dio stesso ci raggiunge già in questa vita attraverso tanti modi, soprattutto l'Eucarestia, i sacramenti, la parola, la preghiera che facciamo da soli o con gli altri, l'abbiamo sperimentato anche in questi 40 giorni e questa perfezione che è la presenza di Dio mi aiuta a capire che le mie imperfezioni non mi devono abbassare nell'autostima o farmi sentire inadeguato, ma al contrario, sapere che è questa luce interiore della perfezione di Dio che illumina, mi fa vedere le mie imperfezioni, ma mi incoraggia, mi incoraggia comunque ad accettarle e a perfezionarle. Mi accorgo Signore che quando compio qualcosa di bene subito lo metto in mostra, lo pubblico. Tu quando compivi il bene spesso chiedevi di non dirlo a nessuno. Hai amato e perdonato anche il ladrone che pentito sulla croce si è affidato a te. Il tuo è un amore senza fine, senza limiti, senza riconoscimenti, un amore che dona tutto se stesso. Preghiamo insieme. Tu ci ami fino alla fine, Signore. Tu ci ami fino alla fine, Signore. Quando siamo tristi e pretenziosi, fa che guardando a te riscopriamo la voglia di spenderci gratuitamente. Tu ci ami fino alla fine, Signore. Quando abbiamo un litigio con un amico o un familiare, ricordaci che il tuo amore è senza limiti e supera ogni nostro peccato. Tu ci ami fino alla fine, Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, vi do adesso gli avvisi per questi prossimi giorni santi del sacro triduo pasquale. Innanzitutto domani è il giovedì santo, 14 aprile. Attenzione perché anticipiamo un po' la preghiera del mattino. Alle 6 del mattino l'ufficio di lettura e le lodi matutine in chiesa parrocchiale, a Cogno. Alle 7 ufficio di lettura e le lodi matutine nella chiesa parrocchiale di Piamborno. Presto perché poi noi sacerdoti dobbiamo essere a Brescia per le 9.30 in cattedrale domani perché con il Vescovo rinnoviamo le nostre promesse sacerdotali. C'è la benedizione e la consacrazione degli oli santi per i sacramenti che poi porteremo in parrocchia. Potete seguire anche voi domani mattina, a chi non lavora, su tele tutto la diretta di questa celebrazione, la messa crismale. Ricordo nel pomeriggio domani le confessioni dalle 15 alle 17, sia a Piamborno come a Cogno saranno presenti i sacerdoti. Alle 15 le prove per la celebrazione per i chiarichetti in chiesa a Piamborno e alle 16 le prove della celebrazione per i chiarichetti in chiesa a Cogno. Ricordo che la messa in cena domini nella cena del Signore sarà domani sera alle 18 a Cogno e alle 20 a Piamborno con la raccolta delle cassettine quaresimali portatele domani sera. Vi ricordo che poi ci sarà la veglia di preghiera nella chiesa di San Filippo notturna davanti all'Eucarestia. Voi sapete che dopo la messa in cena domini noi celebriamo il passaggio che Gesù ha fatto dal Cenacolo fino all'Orto degli Ulivi dove ha detto ai suoi non dormite, state svegli, vegliate e pregate con me. E allora in base al calendario che finalmente riprendiamo dopo due anni dalle 19 e 30 fino alle 7 fino alle 8 del mattino del venerdì santo ci sarà la veglia notturna per le varie zone dei nostri due paesi. Ve le leggo velocemente la zona nord di Cogno poi quella sud gli adolescenti la zona centrale di Cogno poi la zona centrale di Piamborno la zona sud di Cogno la zona nord 1 di Piamborno e poi divise in due parti la zona nord poi i ministri straordinari ragazzi delle medie. Ecco ci sono varie contrade sia di Piamborno che di Cogno tutti nella chiesa di San Filippo è proprio un momento che vede unite le nostre due comunità. Ricordo poi che questa celebrazione della messa in cena domini che si collega con la veglia notturna ci porta dopo la mezzanotte a mantenere l'austerità e il silenzio perché entriamo nel venerdì santo. Ricordo che l'indomani il venerdì santo si ricorda la passione alla morte del signore sarà una giornata di astinenza di digiuno non suonano le campane che restano mute dal gloria del giovedì santo fino alla veglia pasquale. Il venerdì santo al mattino alle sette l'ufficio di lettura e le lodi nella chiesa di Piamborno alle otto l'ufficio e le lodi nella chiesa di Cogno. Al mattino del venerdì santo dalle nove alle undici le confessioni sia a Piamborno come a Cogno, alle dieci un momento di priera per i ragazzi degli elementari a Piamborno e alle undici per quelli degli elementari ancora a San Filippo a Cogno. Non facciamo più venire le medie perché sono già venute durante la notte. Alle dieci e trenta la prova per la celebrazione per i Chierichetti a Piamborno e alle undici e trenta per i Chierichetti a Cogno. La passione del signore, l'adorazione della croce, la santa comunione ricordo alle diciotto quest'anno a Cogno in chiesa e alle venti a Piamborno. Sono celebrazioni molto importanti non ci sono altre cose giovedì, venerdì e sabato santo proprio perché tutti partecipiamo bene a queste celebrazioni che sono fondamentali, le più importanti nell'anno liturgico. Bene poi sabato santo ricordo che non suonano le campane fino alla veglia pasquale c'è silenzio, l'attesa della risurrezione di Gesù. Alle sette sabato santo al mattino a Piamborno ufficio di lettura e le lodi e a Cogno alle otto ufficio di lodi. Continuano le confessioni dalle nove alle undici nelle due chiese, alle dieci il momento di preghiera per elementari e medie a Piamborno davanti a Gesù morto e a Cogno sempre davanti a Gesù morto per elementari e medie alle undici. Ricordo poi il pomeriggio del venerdì o meglio scusate ancora al mattino a dieci e mezza le prove per i Chierichetti per la veglia a Piamborno e alle undici e trenta per Cogno. Ricordo poi alle quindici un momento di preghiera per gli adolescenti e per quanto riguarda a Piamborno nella chiesa parrocchiale tutti e due gli adolescenti di Piamborno e Cogno seguono poi le prove per le veglie pasquali. Sabato santo il pomeriggio continuano le confessioni dalle quindici alle diciotto nelle due chiese. Bene la veglia pasquale è alle ore venti a Cogno e alle ore ventitré a Piamborno. Aspettiamo i papà che già a San Giuseppe erano venuti a servire insieme ai loro bambini per la celebrazione delle due veglie sia a Piamborno che a Cogno si dividono nelle due veglie e tutti voi. Vi ricordo che la veglia pasquale è la celebrazione più importante di tutto l'anno e anche se sapete è un po' articolata e anche lunga però è importante parteciparvi con fede. La domenica di Pasqua 17 aprile a Piamborno la messa alle 8 alle 11 e alle 19 a Cogno alle 9.30 e alle 18 come ogni domenica. Alle 12 accoglieremo la benedizione Urbi e Torbi a Roma e al Mondo del Santo Padre in diretta su Rai 1. Alle 17.30 in chiesa a Cogno i Vespri Solenni di Pasqua e prima della messa e così anche a Piamborno i Vespri Solenni alle 18.30. Lunedì dell'Angelo il 18 aprile fra l'ottava di Pasqua. La messa a Piamborno sarà alle 11 alle 19 e a Cogno alle 9.30 alle 18 due messe per parrocchia. Poi durante tutta l'ottava di Pasqua le messe sono come al solito. Vi ricordo che il 24 aprile sarà la seconda domenica di Pasqua festa della Divina Misericordia. Che Gesù vi benedica, vi accompagni, vi prenda per mano insieme a Lui in questi giorni santi. Grazie per questi 40 giorni insieme e già in anticipo buon trido pasquale e buona Pasqua. Un abbraccio e un bacio a tutti ciao